Io sono per la militarizzazione del territorio. L'esercito a Padova per un anno. Definire un piano di lavoro mappare i quartieri, le problematiche che presentano e portarci i militari. Durissimo Roberto Marcato che questa volta non parla come Lega Nord ma come vicepresidente della provincia di Padova. In zone come Larcella o altri quartieri dove le nostre ragazze, i nostri ragazzi, gli anziani, dopo le sei di sera non hanno più il coraggio di uscire perché ci sono delle bestie che fanno gli spacciatori, che ti urinano sulla porta e se tu fai notare loro che non si può urinare sulla mia porta, questi ti minacciano quando va bene. Il comune sta dando un segnale politico sbagliato secondo Marcato. Anche il comune di Padova, dedicarsi troppo alle politiche dell'accoglienza, del buonismo, in momenti come questo è profondamente sbagliato. Mandiamo l'esercito là, lo lasciamo là sei mesi o un anno, bonifichiamo, chiediamo a questi signori che cosa fanno la mattina e la sera, se non danno una risposta caricati in una camionetta e mandati via. Perché non è più solo la notte a fare paura qui in città? Quattro episodi di violenza su sei si sono consumati alla luce del sole. Uno che ha commesso un omicidio volontario va messo in carcere e buttata via la chiave. Non ci sono carceri a sufficienza. Allora intanto l'indulto se lo facciano pure i parlamentari ma non lo scarichino sui cittadini. Se le carceri sono troppo poche costruiranno più carceri. Nel frattempo tutti gli extramunitari che sono qua si prendono, si carichano in una bella barchetta e si rispediscono a casa loro. Nel frattempo tutti gli extramunitari che sono stati costruiti.